Mi raccomando, non trasmettiamo su Rai3 così almeno non ci possono dire che siamo a reti unificate. Buonasera a tutti. Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive fino al 15 maggio 2021. È stata una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui mi assumo tutta la responsabilità politica. Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti se noi cedessimo adesso rischieremmo di perdere tutti i risultati positivi sin qui conseguiti. Sarebbe una grande frustrazione per tutti perché dovremmo ripartire da capo con la prossima epidemia che si scoppierà nel mondo e aspettare che ci venga a trovare nel salotto di casa nostra. Ci sono chiare per indicazioni che le misure di contenimento stanno dando i loro frutti. Grazie. Vedete? Non mento. No grazie. I meloni non mi piacciono. Stiamo ricevendo anche importanti riconoscimenti dal mondo intero. La Spagna ci sta vicino e nel frattempo loro stanno aprendo le aziende, i ristoranti, gli stabilimenti balneari. Come vedete alle mie spalle il mio caro amico il presidente della Spagna Pedro Sanchez mi ha inviato questo seo di vicinanza, un telo da spiaggia che ci farà ricordare cosa si prova andare in spiaggia quando noi staremo ancora chiusi a casa perché la situazione ancora non è migliorata. Quindi bisogna avere pazienza perché ci vorrà ancora qualche mese. Ho a cuore il popolo italiano e ora più che mai desidero mostrarvi la mia vicinanza. Il mio consiglio è di abbracciare e baciare i capi di abbigliamento, aprire le credenze e pucciare gli abbracci nel latte. Saranno gli unici abbracci che vedrete per settimane e sarà l'unica cosa che puccerete per un po' di tempo. E farò di più. Oggi di fronte a voi italiani vi invito anche a preparare gli abbracci. È una ricetta facilissima, basta seguire le istruzioni come sempre. Allora per esempio la ricetta per 60 milioni di persone prevede preparazione, pochi starnuti, cottura, due mesi. Luogo di riposo tassativamente a casa, riposo quattro mesi. Sono sicuro che in quattro mesi diventerete tutti dei bravissimi cuochi. Poi vi vedremo in televisione. Al momento noto già sui social le vostre stupende foto di pizze, torte, impasti e i video che mostrano la nostra insuperabile bravura in cucina famosa anche nel mondo. Noi siamo fieri di essere italiani. Non soffriremo certo la fame. Finché avremo i soldi per comprare gli ingredienti questo ci salverà. Ma è per questo che abbiamo fatto decreto salva Italia. Chissà se salverà anche gli italiani. Da oggi sono aperti i parrucchieri. Come vedete ho fatto un salto dal parrucchiere e per cambiare il mio aspetto o se preferite cambiare il mio look sono andato a farmi due colpi di sole. Esorto le donne a fare altrettanto perché ormai è il solo modo per prendere due colpi e il sole. Oltre i parrucchieri da oggi aprono le librerie, le sale da gioco, le case chiuse e i sexy shop. Mi rivolgo ai genitori riguardo ai loro figli adolescenti. Divieto alle ragazze di uscire il seno. Analogamente divieto ai ragazzi di uscire il coseno. Non è permesso uscire un beneamato coseno fino a che non verrà espressamente comunicato dal governo diversamente. Ricordo che è sempre in vigore la distanza di sicurezza che da oggi è aumentata a due metri. Però attenzione ieri abbiamo preparato due decreti. Quello di oggi 18 aprile è il decreto apri Italia mentre il 20 aprile uscirà il decreto chiudi Italia e richiudiamo tutto. Gli italiani comunque stanno dimostrando una eccezionale disciplina. Per premiare chi sta a casa stiamo preparando una lotteria io sto a casa. I premi verranno consegnati il primo agosto consisterà nella consegna di sei pizze a casa vostra, birre incluse. Comunque adesso non è il momento di abbassare la guardia. Vediamo in fondo al tunnel una lucina che si sta facendo sempre più viva, sempre più presente. Siamo quasi vicini alla fine di questa emergenza. Quindi solo grazie a noi, a tutta l'Italia, a tutto il popolo italiano, stando uniti ce la faremo. Vi auguro una buona giornata e a presto. Un abbraccio dal vostro presidente. Grazie a tutti.